Ciao e bentornati sul canale! Torno nel mio solito urlo di Natale! Esatto, catalogo Toy Center 2020, dove inizia il Natale. Quindi, come ogni anno, cominciamo con voi a sfogliarlo e vedere un po' che cosa c'è che interessa a Sara e anche a me. Sfoglialo tu che è un po' difficile per me. Allora, benvenuto nel mondo magico del web, quindi gli acquisti via web, le iniziative via web, grandi prodotti superstar, cioè quelli a marchio. Qui abbiamo un labirinto, un piccolo fumetto. Questo lo farò di sicuro. Giochi per bambini un po' più piccoli. Eh sì, perché qui accontentiamo tutti. Che tipo io ho questi. Tampo di giù! Banca del tempo sociale. Quelli con scritto wow sono cose nuove. Ah, ok. Wow, nuove. Wow, bello il suo robottino, carino. Guardate che alzo un po' perché non si vede tutto. Vorrei tornare piccolo per averlo io. È vero, è carino. Alcune cose, cioè, hanno creato delle cose bellissime. Qui abbiamo sempre dinosauri, cannoncini. Anche vestitini. Inizia il divertimento. Vediamo un piccolo elfo che ci introduce nel mondo di Bing. Che io guardo. Mi piace. Ogni tanto ci capita di guardare ancora Bing. Peppa Pig la guardiamo già meno oramai. Siamo grandi tutti e due, sia io che Sara. Qui 44 gatti. Io di solito lo guardo da sola Bing. Tu non è che ti piace. Ho un paio di risultati, non mi dispiace. Io ti vieno Thomas. Pinipon! Pinipon, carino. Questa è nuova. Anche questa credo sia nuova perché non l'ho mai visto. È carnaval. Ma è una testa gigantesca. Eh già, ne hanno fatte molte. Ne ho visto un sacco su YouTube di recensioni. Giochi di legno. Questo è bellissimo. Praticamente ti racconta le storie. Tu metti il pupazzetto di Pinocchio o di Cappuccetto e ti racconta le storie. Quanto è bello. Bellissimo. Qui abbiamo le cucine, quelle finte vere, quelle grandi. Finte vere. Perché finte vere? Perché sembrano vere ma sono finte. Finta aspirapolvere ma è vero. Finto ferro da stilo perché non scalda però sembra vero. Una motosega. E qui abbiamo ancora attrezzi da lavoro, vesti, costumi, tra ninja e principesse, morbidi abbracci, quindi pelusce e animatronics perché questi si muovono alcuni. Devo dire che questa parola mi fa abbastanza... Questo è un wow, questo è un wow, un chihuahua. Aspetta, guarda, c'è la serie present pet uno credo e due perché questi non ci sono qua. Mi togli impreparato su questi. Vedo solo tanti pelusce e tanta polvere di questi che poi rimangono lì. No, 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 surprise! E qui si dobbiamo fermare. Qua abbiamo i cappellini removibili. Ah, non più come la serie uno. E che sì, che fa caldissimo. Cioè d'estate muoiono di caldo. E qui dobbiamo fermarci un attimo perché abbiamo LOL, surprise. J.K., lei è la mia preferita. Lei è la mia preferita. E' bellissimo. Poi abbiamo le Remix che sono nuove. Le Remix, lei è la mia preferita, Kitty K. Poi ci sono anche queste Remix e i pets. Però queste sono nuove, sempre della serie Remix. E sono ispirate. Allora, quella con i capelli verdi e quella con i capelli neri e rosa non mi ricordo a chi sono ispirate. Però queste due sì. Qui OMG ancora. OMG. Questo l'ho visto all'estelunga. E non ho ancora visto... O a TV? Sì, non ho mai visto... È un calendario dell'avvento. Una recensione ancora. Ah, ok. Ma è contro te. Possiamo saltarlo? Sì. Grazie. Allora, anche qui. E qui cominciamo con... Questo è bellissimo. Alle Disney Princess, Comfy Squad, Fashion Doll assortite. Ariel è bellissima. Se non si fosse capito è la mia personaggia Disney preferita. È la mia principessa. Bella Elsa, con i capelli sciolti. Qui Frozen 2 perché Frozen non può mancare. È rimasto del cioccolato in giro dall'apertura degli ovetti Kinder di prima? Sì. Ah, ecco, bene. Barbie. Guarda, questo è bellissimo. Barbie, cos'è? Sono le colori vile. Qua puoi trovare un cucciolo e una borsetta con un accessorio. Puoi trovarli o due o uno. Ma vanno sciolti nell'acqua? Sì. Anche quelli? Qui abbiamo anche quindi... C'hanno solo una copertura. Anche i Chelsea che si sciogliono la copertura nell'acqua. Sì, le Chelsea. Sì, queste hanno le parrucchie. Non le stanno benissimo. A me non è la serie 1. Magari le hanno migliorate. Poi questo c'è. Sì, dentro sia degli accessori, sia una Chelsea, sia una Barbie. E anche i cuccioli, cioè questi. Ah, anche un cucciolo. E poi ci sono queste che puoi trovare o così o così. Queste, queste. Noi abbiamo questa. Noi ce l'abbiamo lui. Ah, quindi un po' quelli sono fashionistas. Però questa l'abbiamo snodato. Reso snodato. Qui abbiamo un insediante di musica bello. Queste le ho viste, il Toys, un po' di tempo fa. Questa, io ce l'ho, però è una novità, il Toys. Questa è una novità, l'ho vista la pubblicità oggi e ieri. Aeroplani, case, negozi, jeep, macchine. Questa è nuova. Anche questa è nuova. Questa mi piace già di più. Sì, è un armadio. Qua c'è la lavastoviglie vicino alla scrivania. Nuova casa dei sonni. Di Vantesca. Beh, in effetti però non è nuovissima. È nuova, però non è nuovissima perché quelli con voi sono appena... Qui ci sono le stelle. Voi potete segnare quante stelle date al giocattolo e se lo volete. Quello di Barbie... Uh, BMR. Cioè, questa gliele metto tutte fino ad arrivare a, non lo so, a Natale gliele metto. È meravigliosa. Questa e questa abbiamo noi, queste due, giusto? Sì, questi due. Ok. Però abbiamo anche l'altro. Qua non lo fanno vedere, quello con lo chignon. Lorenzo. Qui abbiamo le polypocket, sono sempre della Mattel, qua sotto cominciamo con le polypocket. Però c'è solo questo. L'avrei fatto più grande perché non si vedono benissimo le foto molto piccole. Qui abbiamo le lolly. No, questo è il mio preferito. Le lolly, cioè simile Barbie o qualcosa che gli assomigliava, però gli accessori si possono usare anche per Barbie. Sì, infatti le cucine erano della lolly che è anche Steffi. E qui sempre lolly, lolly sirena, lolly... La lolly sirena è l'unica bella. Ma sto campetino è anche carino, eh? Sì, questo ho visto... Sai che è molto bello? Barbara e Lara che l'hanno customizzato. Era tipo questo, non so se era questo proprio, però... E questa casa l'ho vista gigantesca. Sì, l'ho vista anche io. Qui abbiamo le Winx, Miracle Tunes e le I Adorable. Qui abbiamo sempre Winx. Curly Girl. Ah sì, è una novità, più o meno. Questa in realtà è una fattina volante. Me la ripropongono come nuova, ma in realtà non è nuova. È riciclata, restylizzata e ributtata fuori. Periodicamente si fa anche questo. La Nancy. Nancy Sirena l'ho vista, la recensione. Ciccio bello. Ciccio bello. E qui passiamo ai pupazzotti. Pupazzotti di vario tipo. Passegggini. Cry Babies. C'è una fattina lì. Giulia Ballerina Butterfly. Ah, bella Giulia Ballerina. Cry Baby. La casa dei Bellis. Cry Baby. Bellis. La casa dei Bellis. Ah, Bellis. E qui abbiamo le... Perché sono belli. Sylvain and Family. Sylvain and Family che sono... Sempre belli. E qui noi abbiamo una casetta. E qui, giusto per non farci mancare niente, passiamo un attimo rapidamente anche la parte maschile. Iron Man bellissimo. Batman una serie intera carina con Joker e Robin. Gormiti che oramai da decenni rimangono sempre. Benten e Tartles. Anche loro oramai sono storici. Oh, vediamo. C'è una pagina che... È incollata male. Va bene. Ecco qua. Eh, l'hanno tagliata proprio male sta pagina. Scooby-Doo che è saltato di nuovo al ribalta con delle bellissime collezioni. Wow, c'è, c'è Baby Yoda che però è tipo un Dalek del Dr. Wu perché non c'ha le gambe. Ma no, ce le ha, sono piccole. Guarda che grandi che sono. No, no, nel gioco. Ah, ok. Sì, ho visto la recensione di un pupazzo. Non so se l'hanno preso sempre al Toys o dal Disney Store però non aveva le gambe. Jurassic World sono enormi. Qui abbiamo il Funco. Ermione Granger, Ermione Granger, anche questo. Iron Man. Bello. Bello questo, anche Ermione Granger. Guarda che bello che Ermione Granger è metallizzato. Guarda che bello Ermione Granger. 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 Ermione Granger con il fumo e il... Ma magari sotto il casco di Ermione Granger c'è Ermione Granger. Qui abbiamo dei giochi di marche diverse, appunto, Superstar. Ho visto già Super Mario. Super Mario. Cars. Super Mario. Super Mario che torna... Pile perché servono sempre con grandissime cose. Lego Super Mario anche. Eh, Lego Super Mario è tanta roba. E' tanto bello cosa. Sì. Hot Wheels. Grandi piste. E piace pure a me. Eh sì. Macchine radiocomandate di tutti i tipi. C'è pure Yoshi. Elicottero radiocomandato. Drone radiocomandato. Guarda il drone. Piste. Vediamo che piste ci sono. Anche questa qui. Che giri della morte che fa. Bellissime. Per essere attaccate le auto. Eh, guarda questa pista è stupenda. C'è due giri della morte. Fantastico. Questo l'ho visto il pupazzo. Carino. Sì. Qui abbiamo cani, furgoni, gru, scavatrici, parcheggi giganteschi. Fantastici. Questo parcheggio mi pare di aver visto la qualsiasi parte. E poi andiamo su Lego. Prima il Lego duplo per bambini più piccoli. Poi il Lego City che conosciamo bene. Lego Friends. Lego Friends. Con anche un Lego Frozen del libro delle fiabe. Noi abbiamo quello di Ariel. Noi abbiamo quello di Ariel, sì. Eccolo Lego Super Mario. Lego Super Mario che quest'anno mi sa che a Natale sarà richiestissimo. Oh, vediamo cosa c'è di Lego. Quello speciale. Creator. Cinque cili ideas. I pirati Barracuda Bay. Qui abbiamo Super Mario. Edvige. Edvige. Gigante. Playmobil. Anche Playmobil si è lanciata molto. Abbiamo le cose di Scooby Doo, di Ritorno al Futuro, dei Ghostbusters. Eccoli qua, Ghostbusters. Ritorno al Futuro. E qui i giochi un po' più intelligenti. Giochiamo, impariamo. Quindi abbiamo quelli per i più piccoli, tipo mini tablet. I giochi della Clementoni. Quello. I laboratori. C'era il laboratori. Il profumo. Aspetta, guarda, aspetta. Tornandito la pagina. Qua, questo è bellissimo. Ah, il laboratorio di salone di bellezza. Poi il laboratorio degli esperimenti, della nebbia. Oppure delle unghie, oppure delle fiori. Il mappamondo, il corpo umano, i cristalli, il telescopio. Il Gravitax. Gravitax. Belli. Gravitax è bello. C'è anche un mini fumetto. Sì, continua quello che è dall'inizio. Qui abbiamo sempre qualcosa per più piccolo. Il Play Dock. Slime. Slime, basta. Slime. Finirà all'epoca dello slime. La sabbia magica. Kinetic Sand. Dinosaurs. Qui sono della... Non li conosco. Qui, trucchi. Giochi di vario tipo. Qui sempre per creare qualcosa. Crea maniera. La bagnetta! La bagnetta, colori. Tavolozze. Cos'è? Ditemi se non è bello. Cioè, guardate. Set, notebook. Anche questo. Ma solo perché kawaii. Questo è bello, 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 questo è bello. Tutto perché sono kawaii. Allora. Non è vero. Sì. E tu sei kawaii. Qui abbiamo... Oh, giochi in scatola. E coniglia è bello. Non calpestarla. Che schifo. Non lavoro mai non calpestarla. È bellissimo. È bellissimo. Poi abbiamo Cluedo. Poi abbiamo Labirinto Magico. Questo è bellissimo. No, quello mai lo avrai. Fa schifo. Ti va a tirare fuori la roba dal naso. Qui c'è un water. Che schifo. No, questo acchiappa la cacca. Ma che schifo. Non ci giocano mai a acchiappa la cacca. Tu fai così. Qua usi tu il water e poi esci fuori una cacca e tu la devi prendere al volo. No comment. Inacquistabile. Jumanji. Questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, la pistolina. Jumanji. Questo me l'ha regalato al comprare. Jumanji sto dicendo che per Natale se qualcuno lo comprasse sarebbe carino. Allora, il gioco di ritorno al futuro. Questo qui, questo l'ho comprato. Questo papà se l'è comprato. Guarda, la regina di Biancaneve. Papà questo dello squalo si è comprato. Non c'è ancora fatto una partita e dovremmo farlo, però ho paura di rovinarlo. Questo è un mini Pac-Man. Bellissimo. Questo è bello. Bello. Puzzle 3D. Vuoi bucare il catalogo? Questo c'è anche di frog. Ma questo è a grandezza naturale. Vedi, ce ne sono tanti. Questa è a grandezza naturale. No, è più piccolo, un metro e sedici. Mamma mia. È proprio piccolo, lo voglio grande come una volta. Questi erano i videogiochi che mettevano nei bar e si poteva giocare, mettevi un gettone e giocavi. Ma io voglio quello di frog. E qui c'è in piccolo piccolo, però. Strumenti musicali. È che è a misura Barbie. Videogiochi, switch and company. Moto, automobili, biciclette. Trattori. Trattori, monopattini, bigliardini. Roller Raid. Nerf. Eppi. Eppi. Che giocatore voleste di Natale? Scopilo sul mio canale. Gli abbiamo fatto anche della pubblicità. Che il vero incantesimo abbia inizio. E quindi preparatevi per il Natale. Sarà un po' particolare visto il periodo. Però sarà sempre bello, giusto? E quindi? Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!